Il Ministero dell'Interno intende coinvolgere le centinaia di comuni della regione che ancora non sono impegnati in programma di accoglienza dei richiedenti asilo. Tra le ipotesi operative confermata quella di evitare megacentri e alla Cavarzerani i numeri diminuiranno. Francesco Rossi. Convincere i sindaci a fare ciascuno la propria parte nell'accoglienza dei migranti. E' il compito che attende il prefetto di Udine Zappalotto. Oggi a Roma colloquio con il Ministro dell'Interno Minniti. Ieri a Udine la protesta politica per un possibile incremento dei richiedenti asilo nell'ex caserme Cavarzerani e Friuli. Ma il prefetto Morcone, capo di gabinetta avviminale, dopo un colloquio con il sindaco Onsel ha smentito, rassicurando suo rispetto della linea Minniti, ovvero accoglienza diffusa e niente megacentri. E non solo. Mi ha anche assicurato che qui non ci sarà assolutamente il trasferimento del cara di Gorizia e dunque questo è anche importante perché Udine ha sempre fatto la sua parte e non è giusto appunto che poi dopo continui a essere quella che si fa carico anche delle inadempienze di tutti gli altri. La riduzione dei numeri passa però dalla disponibilità ad accogliere anche da parte di quei comuni che finora hanno detto no e che però continuano a opporsi. Noi diciamo no a questo modo di gestire questa problematica con una prevaricazione da parte dello Stato centrale nei confronti degli enti locali. Prima ci hanno svuotato i comuni di personale, di risorse e adesso ci chiedono di risolvere i loro problemi. E a difendere i comuni che non vogliono migranti anche l'Anci regionale? I comuni stanno già facendo la propria parte abbondantemente in questa regione, circa un centinaio di comuni già accolgono. Teniamo presente che circa 150 comuni su 216 sono al di sotto dei 5 mila abitanti, quindi i piccolissimi comuni non hanno spesso infrastrutture, non hanno alloggi. Il presidente regionale dell'Associazione dei Comuni Pessetta chiede di incentivare il sistema SPRAR ma al contempo ridurre i centri d'accoglienza straordinaria, come velocizzando le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.